E questo è un grande onore per me, credo sia un grande onore per la città, un grande onore per me presentare un Folignate Doc, perché il professor Dario Antiseri è nato a Foligno, San Giovanni Profiamma per l'esattezza, ci sono dati sensibili che tralasciamo, laureato in filosofia presso l'Università di Perugia, professore ordinario è la giovinezza dello spirito, anche dell'età, ma è veramente la giovinezza dello spirito e questa è una grande cosa. E' professore ordinario di metodologia delle scienze sociali presso la facoltà di scienze politiche della LUIS. Dopo la laurea in Italia ha studiato filosofia della scienza, logica matematica, filosofia del linguaggio, rispettivamente presso le università di Vienna, Monster, Oxford. Libero docente nel 1968 in filosofia teoretica, ha insegnato materie filosofiche presso le Università di Roma, la Sapienza e di Siena. Ordinario di filosofia del linguaggio presso l'Università di Padova, ha insegnato anche filosofia della scienza presso la scuola di specializzazione in filosofia della scienza ed è stato direttore del Biennio nel Biennio 1980-82. Nel 1986 è stato chiamato dalla facoltà di scienze politiche della LUIS a ricoprire la cattedra di metodologia delle scienze sociali. È stato preside della facoltà di scienze sociali della LUIS dal 94 al 98 e sempre presso la LUIS è direttore del centro di metodologia delle scienze sociali. È membro dell'istituto accademico di Roma, membro dell'Accademia Italo-Tedesca di Merano e membro dell'Advisory Board del centro studi Tocqueville Action. È specialista del moderno pensiero liberale anglo-americano e austriaco. Dario Antiseri, lo possiamo dire, ben forte, è tra i più solidi filosofi del nostro tempo. In collaborazione con Giovanni Reale, autore di un testo di filosofia largamente utilizzato nelle scuole superiori italiane, molto tradotto anche all'estero. Insieme hanno ricevuto recentemente anche una laurea ad Onorem e dall'Università di Mosca. Così nell'aula del Consiglio della Facoltà di Filosofia, gremita da professori, dottorandi e autorità accademiche, il rettore dell'Università ha conferito l'alto riconoscimento di dottore Onoris Causa ai due studiosi italiani, Dario Antiseri della LUIS, Giovanni Reale della Cattolica di Milano, la cui storia della filosofia occidentale pubblicata in Russia in quattro volumi, è diventata un best seller nazionale. Il libro è un'appassionata difesa dei valori della società aperta, della democrazia e della libertà di pensiero ed è diventato in tutte le università russe il testo principale delle facoltà umanistiche. Tra le sue opere ricordiamo Karl Popper, Epistemologia e Società Aperta, perché la metafisica è necessaria per la scienza e dannosa per la fede, teoria unificata del metodo, il mestiere del filosofo, didattica eccetera. A lei la parola. Grazie. Dunque sono io che devo ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione per due ragioni. la prima ragione è che tornare a Foligno, anche se sono tanti anni e ormai non è partito, è sempre un piacere. Diceva Metelli, ho rivisto la piazza, è stato bene, è bella, bellissima di essere tornata. Ecco, e poi anche perché appunto a Milano è già un'occasione, qui posso vedere, con lei con cui vi abbiamo incontro, il professor Boncinelli, Giulio Isorello, con cui sono stato a Torino pochi giorni fa, Tagliagambe e tanti altri. Bene, allora io cercherò di essere il più conciso possibile, anche se l'argomento che mi è stato affidato può essere interessante sia per i giorni ma anche appunto per gli insegnanti. La prima parte, il titolo è più filologia nel mondo di Google. Allora, la prima parte riguarderà questione di metodo, la seconda parte sarà un'applicazione ad alcune esperienze didattiche. Allora, è lunga la storia di cui la disputa sul metodo, dove si sono intrecciati i tentativi chiese a dimostrare o negare l'identità del metodo, cioè delle regole procedurali, nelle scienze naturali e nelle discipline umanistiche o più ampiamente nelle scienze storico-sociali. Il metodo delle scienze naturali è lo stesso o no del metodo praticato nelle scienze dello spirito, scienze storico-sociali. Questo è un problema che ha attraversato il pensiero filosofico occidentale, almeno da Dilti, giù, 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 fino a Croce e fino ad epistemologi come Empel, Nagel e tanti altri. Ora, ecco, la domanda a cui vorrei rispondere questa sera è la seguente. Si danno davvero più metodi differenti appunto in questi diversi ambiti di ricerca? Cioè, voglio dire, il professor Boncinelli quando lavora, costruisce ipotesi, le va a controllare, ecco, usa regole procedurali diverse da quelle che usa un filologo o uno storico quanto fa scienza, ovvero no. Ora, Popper risponde così a questo problema. La mia concezione del metodo della scienza è semplicemente questa. Esso sistematizza il metodo prescientifico dell'imparare dai nostri errori. Lo sistematizza grazie allo strumento che si chiama discussione critica. Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che esso consiste in questi tre passi. Inciampiamo in qualche problema, tentiamo di risolverlo ad esempio proponendo qualche nuova teoria, impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resti presenti nella discussione critica dei nostri tentativi di risoluzione. Per dire in tre parole, dice Popper, problemi, teorie, critiche. Credo che in queste tre parole, problemi, teorie, critiche, si possa riassumere tutto quanto in un modo di procedere della scienza razionale. Questa è la soluzione di Popper. Dunque, per Popper tutto quanto in un modo di procedere della scienza razionale consiste nel proporre ipotesi quali tentativi di risoluzione di problemi, ipotesi da sottoporre a severi controlli al fine di scoprire in esse eventuali errori da correggere tramite altre ipotesi anch'esse da controllare e così via. Questo è un metodo valido, dice Popper, per tutta la scienza razionale e cioè in ogni angolo della ricerca, ovunque ci siano problemi da risolvere, in fisica, in linguistica, in biologia o in economia, in sociologia e in chimica, nell'interpretazione e nella traduzione di un testo e in astrofisica, non possiamo fare altro che inventare i congetture per poi metterle alla prova. Ancora Popper. Elaborare la differenza fra la scienza e le discipline umanistiche è stato a lungo una moda ed è diventato noioso. Il metodo di risoluzione dei problemi, il metodo delle congetture e confutazioni sono praticati da entrambe. E' praticato nella ricostruzione di un testo danneggiato come nella costruzione di una teoria della radioattività. L'idea che il metodo scientifico sia unico, problemi, congetture e tentativi di confutazione e che invece differenti siano le metodiche, cioè le tecniche di prova o di controllo, non è una proposta del solo Popper, così come non è stata l'idea di falsificabilità empirica quale criterio di demarcazione tra scienza e no scienza. Tralascio adesso altre citazioni che appesantiscono il discorso. In ogni caso, prima di iniziare a parlare del metodo delle discipline umanistiche e più ampiamente delle scienze storico-sociali, vorrei rifarmi ad alcuni pensieri di Albert Einstein, perché è proprio Einstein a ricordarci, e cito una serie di citazioni, a ricordarci che la ricerca in fisica avanza per congetture e confutazioni. Cito, la scienza gli ha scritto non è un catalogo di fatti senza nesso, è una creazione dell'intelletto umano con le sue libere invenzioni di idee e di concetti e non esiste alcun metodo induttivo che possa condurre ai concetti fondamentali della fisica. La teoria è opera dell'uomo, risultato di un processo di adattamento straordinariamente laborioso, ipotetico, dice Einstein, mai completamente definitivo, sempre soggetto a discussioni e a dubbi. La soluzione dei problemi ha bisogno dell'invenzione di idee e di concetti, idee e concetti da mettere al vaglio dell'esperienza. Cito ancora, l'esperienza è la fellomica di tutto il nostro sapere attorno alla realtà e la verità, dice Einstein, è ciò che resiste alla prova dell'esperienza ed è sulla base delle sue conseguenze che una teoria va controllata. Anneliamo a che i fatti osservati discendano, dice Einstein, logicamente dalla nostra congezione della realtà e se i fatti osservati vanno contro la teoria, è la teoria in genere che va abbandonata. Cito ancora, se una sola delle sue, della teoria della gravità, delle sue conseguenze apparisse inesatta, bisognerebbe abbandonarla, ogni cambiamento sarebbe impossibile senza scuotere tutto l'edificio. In realtà, ecco, questo cito da un articolo molto interessante che Einstein pubblicò sul bellino Tageblatt del giorno di Natale del 1919, dice Einstein, una teoria può venire riconosciuta come sbagliata a qualora ci sia un errore logico nelle sue deduzioni o può venire riconosciuta come inadeguata allorché un fatto non si accorda con una delle sue conseguenze, ma mai può venire dimostrata la verità di una teoria in modo assoluto. E ciò perché mai si sa se anche nel futuro non si scoprirà nessuna esperienza che contraddica le sue conseguenze e sono sempre pensabili altri sistemi di pensiero in grado di connettere gli stessi fatti dati. Se sono a disposizione due teorie, entrambe compatibili con il materiale fattuale dato, allora non esiste nessun altro criterio per preferire l'una all'altra che lo sguardo intuitivo del ricercatore. È così che si capisce come acuti ricercatori i quali dominano teorie e fatti possono altra via essere appassionati sostenitori di teorie opposte. Se il metodo del fisico è quello tramite il quale si procede per trial e error, questo è anche il metodo del biologo. Charles Davini in una lettera del 1861 diceva a Derby Fawcett è molto strano che non tutti capiscono che ogni osservazione per avere qualche utilità deve essere a favore o contro qualche opinione. Occorre dunque proporre ipotesi o congetture per spiegare i fatti. Nella sua autobiografia Darwin scrive fin dalla mia prima giovinezza ho concepito un vivo desiderio di capire e di spiegare tutto ciò che osserviamo, cioè di raccruppare tutti i fatti sotto le leggi generali. Le leggi generali, va a dire teorie, ecco ciò di cui necessite il biologo per spiegare i fatti. Francis Darwin, figlio di Charles, annotava a proposito del padre e diceva spesso che non può essere un buon osservatore che non sia anche un attivo teorizzatore, ma lo scienziato serio sa che non può attaccarsi alle idee come a dogmi e Darwin stesso a confessare di procedere, cito, in modo da poter rinunciare a qualunque ipotesi, anche se è molto amata e non so trattenermi di affromularne una per ogni argomento, non appena si dimostra che i fatti mi si oppongono. Che il metodo delle congetture e delle conflutazioni sia il metodo della ricerca biologica lo pensano anche Midoro, Eccles, Mono, Krebs, anche Bocinelli. Ed esso è il metodo appunto del medico. Non è razionale, voi sapete, capite, il medico che per salvarla di agnosi uccide il paziente. Razionale piuttosto è il medico che per salvare il paziente uccide, cioè è falsifica, dimostra false, nel suo diagnosi finché arriva sperabilmente a quella buona. E a questo punto sarà bene non dimenticare alcuni pensieri di Augusto Morri, il grande medico appunto marchigiano. L'inventiva e la speculazione, diceva Morri, sono le prime qualità dello spirito umano, anche per le scienze, ma si illudono coloro che le credono dissociabili da una grande prenderazione critica. La nostra ragione è tutt'altro con un infallibile congegno generatore di luce. È strano, dice Morri, ma siamo proprio noi razionalisti che più diffidiamo di essa. Lo disse già da par suo il principe dei razionalisti, la pretesa di non errar mai è un'idea da matti. Eppure noi adoriamo la ragione perché crediamo che essa, dice Morri, essa solo ci possa dare il sapere. Come si può dunque essere razionalisti senza rievare ad altissima degnità la critica? È questa che può correggere le dannose inclinazioni della mente umana. Solo gli sciocchi e i semi dei che si credono invulnerabili prendono la critica per avversione, invece la critica non sarà la più alta, ma certo è la più fondamentale, dote dello spirito, perché è la più efficace profilassi dell'errore. Possono averla vile solo coloro che stessa non fosse e passerebbero per geni. La realtà è ancora Morri a parlare. La realtà è che ogni giorno si corregge un errore, ogni giorno si impara a sapere meglio quello che possiamo fare di bene o quello che siamo condannati ancora a lasciare avvenire di male. Ogni giorno erriamo meno della vigilia e impariamo a sperare di far meglio la dimane. Errare, sì, è una parola che fa paura al pubblico. Errare a spese nostre, errare a costo della nostra vita. La meraviglia pare giustissima, l'accusa pure grave. Eppure o avventurarci a pericolo di un errore o rinunziare ai benefici del sapere. Non c'è altra strada. L'uomo che non erra non c'è, dice Morri. Ed ecco allora durso il prezioso a monumenti. Si godono pure i metafisici, i loro veri eterni, su cui ancora non sono messi d'accordo. Noi preferiamo i nostri errori di oggi. A noi basta sapere che questi contengono un po' più di vero degli errori di ieri. Nella clinica come nella vita bisogna dunque avere un preconcetto, uno solo ma inalienabile. Il preconcetto è che tutto ciò che si afferma è che per vero può essere falso. Lo segna a farsi una regola costante di criticare tutto e tutti. Prima di credere bisogna domandare sempre come primo dovere perché devo io credere questo? E allora qui adesso io ho scritto una lunga relazione ma non voglio annoiarvi e vado un po' a braccio se la grande capa permette. E' difficile. Allora, ci provo. Allora, è difficile. La biologia, non si. Allora, va bene. Allora dicevo, quello che ho detto in questo primo appunto è che la soluzione di poppera problema se nella scienza ci siano uno o più metodi è la seguente. Cioè, noi, in ogni angolo della ricerca, ovunque ci sia un problema da risolvere, non possiamo fare altro che inventare congetture quelle che Leibniz ha detto appunto questi monti possibili, queste storie coerenti e metterle alla prova. Chi vuole toccare un tema, un problema, un argomento che fosse di interesse. Ora, quando noi diciamo che abbiamo delle congetture, delle idee, perché abbiamo inciampato in un problema, le abbiamo create, bene, noi diciamo che le andiamo a verificare. Ora, guardate, non è questione di parole, è questione di sapere cosa facciamo quando diciamo verificare un'ipotesi, una teoria o una diagnosi, per esempio, ecco. Perché verificare, dal punto di vista listicale, significa appunto veran fascere teoria, fare vera, dimostrare vera, una teoria. Come vinificare significa fare il vino, panificare, fare il pane, verificare, fare vera, dimostrare vera, una teoria. Ora, noi per ragioni logiche, adesso qui, se volete poi possiamo discutere, per ragioni logiche e matematiche non possiamo dimostrare vera nessuna teoria. Cioè, assolutamente vera nessuna teoria, anche se la teoria è davvero vera, qui taschi appunto al logico e matematico polacco queste cose ce le ha fatte capire. Bene, in ogni caso, dice Pop, inciampiamo in un problema, inventiamo queste concetture e poi le andiamo a verificare, vedremo meglio a controllare. Ora, una teoria è ciò che questa contiene e ciò che una teoria contiene sono le sue conseguenze. Quindi, cosa facciamo noi altri? Dato una teoria, prendiamo la teoria e cominciamo a spremere le conseguenze. Diciamo, se la mia teoria T è buona, è vera, saranno, devono corrispondere ai fatti, le conseguenze P1, P2, P3, P4, P5, eccetera, eccetera. Ora, quindi noi prendiamo la teoria e spremiamo giù queste conseguenze. Se le conseguenze, adesso sono un po' intuitivo, vado un po', se le conseguenze combaciano con i fatti, noi diciamo che la teoria è confermata, si regge in piedi, se qualche fatto, e dal punto di vista logico basta un sol fatto, chi è matematico lo sa meglio di me, se un sol fatto va contro la teoria, la teoria è logicamente falsificata, dimostrata falsa. Quindi, vedete bene, c'è una asimmetria, dice proprio, perché lui è la simologia contemporanea, c'è una asimmetria logica tra la conferma e la smentita di una teoria. Cosa vuol dire questo? Beh, il professor Boncinelli fa teorie importanti di genetica, eccetera, eccetera, poi se va, io vado a messo, faccio una teoria su Metelli, se tu permetti Metelli, capo della Quintana, Boncinelli, posso fare un Boncinelli? No, nessun di altri me ne struisco. Allora, su Metelli, io dico, l'amico Metelli è un uomo generoso. Cosa faccio? Quello che faceva Newton, prende la teoria e tira giù le conseguenze. Se Metelli è generoso, appena siamo fuori, ci paga il caffè. Poi, certo, a tutti i guanti, ci paga il caffè. Se un ragazzo poi non ha i soldi per andare ad Arbarde, Metelli gli paga la borsa di studio. Se io non ho il costo per tornare a terra, me la paga la costa per tornare a Roma. E così dicevano. Tiremo giù otto conseguenze diciamo, paga il caffè, ci offre il pranzo, si va all'albergo, paga la borsa di studio, eccetera, eccetera, otto conseguenze. Io vi dico, ma Metelli è davvero generoso? Cosa rispondi? La professoressa filosofa. No, no, non ti dici, per quanto ne so fino adesso, salve errore, fino a prova contraria, Metelli è generoso. Alla nonno, no. Faccio un altro esempio. Metelli è generoso, dunque ci paga il caffè, ma siamo fuori e il caffè non ce lo paga. Dunque, non è generoso. Vedete bene? Questa è la simmetria logica. Miliardi e miliardi di conferme non rendono certo una teoria, un solo fatto negativo distrugge logicamente, per le cose che si compra, la teoria. se questa simmetria logica, se questo pezzo di logica è buono, ed è buono, diciamo così, è buono, cosa fa? Allora, è chiaro che lo scienziato, lo scienziato rigoroso, lo scienziato veramente critico, davanti a una teoria, non va a cercare le conferme, perché la cosa più stupida, più facile, è cercare le conferme di una teoria. Avete visto voi i dibattiti politici, no? In televisione, i dibattiti politici. È chiaro, cosa fa il politico? prende la sua idea, la sua proposta e porta i fatti che la confermano. Dice la gente al bar o anche in famiglia, dice, oh, non è della mia idea, ma come parla bene? Poi cosa succede? C'è un giornalista, se c'è un giornalista non servile e spara il fatto contrario, già, non ci avevo pensato. In realtà, l'atteggiamento verificazionista di colui che può cercare sempre le conferme, è tipico in genere, in genere, metterli, dei politici, è tipico dei tifosi di calcio, degli innamorati e dei cacciatori. Non sbagliano mai. Ma come diceva gli innamorati, i tifosi di calcio, i cacciatori e politici, in genere, sono verificazionisti, no? Cioè, sono fondamentali, io ho sempre ragione. Ma questo è l'opposito, il vecchio De Gaulle diceva, soltanto gli imbecilli non hanno mai torto. E questo che vale nella vita, vale anche appunto nella scienza. Quindi, siccome c'è questa simmetria logica tra conferme e sventita, è chiaro che lo scienziato a serie cosa fa? Va a cercare, la crepa nella teoria, va a cercare un errore. E perché va a fare questo? Perché lui sa che prima trova l'errore, prima trova la crepa nella teoria e prima ovviamente la comunità scientifica è posta nell'urgenza e necessità di inventare e mettere a prova una teoria migliore. Poi qui, su cosa sono teorie migliori, sono molto... una teoria migliore. Per questo voi capite che la scienza avanza attraverso grandi fantasie, diciamo così, e controlli rigorosi. E l'errore non è un peccato, l'errore è l'errore commesso, individuato ed eliminato è un elemento fondamentale della storia della scienza. diceva sempre Popper che portava a lezione questa frase di Wilde esperienza è il nome che ciascuno di noi dà ai propri errori. E ancora Popper diceva Popper l'errore commesso, individuato ed eliminato è il debole segnale rosso che ci permette di venire fuori dalla caverna della nostra ignoranza. E ancora, cita memoria, evitare l'errore è un ideale meschino. Se noi appunto ci confrontiamo con un problema difficile è facile che sbaglieremo. La cosa importante è apprendere dai nostri errori. Per questo definizione ancora di Popper l'uomo razionale non è un uomo che voglia avere ragione quanto piuttosto un uomo che voglia imparare dai propri errori e da quelli altrui. L'uomo razionale non è un uomo che voglia avere ragione quanto piuttosto un uomo che vuole imparare imparare dai propri errori e da quelli altrui. Allora, questo è il primo punto. Problemi, congetture, tentativi di confutazione perché dobbiamo confutare le teorie perché la fantasia è l'errore. Il secondo punto è il seguente. Ma potrebbe dire un fisico qua presente o potrebbe dire appunto un biologo o un chimico? Sì, questo lo sappiamo noi altri. Questo è il metodo la procedura appunto di indagine delle scienze naturali del fisico del biologo eccetera. Ma c'è tutto un ambito di oggetti che sono oggetti di indagine di quelle che si chiamano scienze dello spirito o scienze storico-sociali diciamo, Cioè, discipline umanistiche diciamo. Ora, che succede? Succede anche nelle scuole questo, io giro Boncinelli di girare le scuole ma anche io giro le scuole Boncinelli e allora capita questo perché nelle scuole ci sta la scienza dura fisica, chimica, biologia, geologia, informatica, matematica. Poi ci sono questi poli di sgraziati che sono storici dell'arte, filosofi, letteratura latina, letteratura italiana, letteratura greca, queste cose. Questi sì, sono quasi storia, con tante storie, queste cose qua. Allora, a questo punto vi sottopongo alla vostra attenzione la teoria di un altro grande filosofo contemporaneo e cioè Hans-Georg Gadamer. Questo Gadamer, morto qualche anno fa poco, Gadamer nel 60 pubblica un libro importantissimo che si chiama Verità e Metodo. Adesso io ho scritto alcune cose qua, non ve le leggo per non annoiarvi, però cosa dice Gadamer in questo suo famoso libro? Teorizza quello che si chiama il circo l'ermeneutico, cioè noi continuamente siamo degli interpreti, noi interpretiamo appunto testi, ci sono gli interpreti professionisti che sono biblisti, eseggeti biblici, eseggeti biblici che sono quelli che costruiscono le lapidi romane, papirologi, eccetera, eccetera. poi ci siamo noi altri che evidentemente leggiamo testi e interpretiamo di continuo perché la vita quotidiana è una continua interpretazione, io parlo e voi cercate di interpretarmi, parlo, vedo, dice lei, forse mi capite poco, ma anch'io vi guardo e vi interpreto, vi guardo, perché volevo sapere se siete annoiati, disgustati, ma quanto parte a questo antistri, ma perché l'ha chiamato Pincarelli, eccetera, o però siete interessati, vediamo un po' cosa dice su Gadamer, bene, ora cosa dice Gadamer, Gadamer dice questo, quando un interprete in senso tecnico o un biblisto, ovvero un epigrafista, ovvero, ecco, quando un interprete in senso tecnico o in senso lato, chi legge un manifesto, chi legge appunto un articolo di giornale o un romanzo, quando un interprete va davanti a un testo, dice Gadamer, non ci va con tabula rasa, ma ci va con il suo forfer stendini, con la sua precomprensione che è l'insieme dei suoi forurtai, dei suoi pregiudizi, cioè l'insieme di quello, direbbe poco, di mondo tre che è entrato nel mondo due, cioè quello che questo interprete sa, quello che sa della testa, e cosa fa questo qui? In base alla sua precomprensione e dato il testo, cosa fa l'interprete di segato? Dà una prima interpretazione del testo, dà una prima interpretazione del testo, e poi cosa fa l'interprete, guarda bene, noi questo lo facciamo tutti i giorni, cosa fa l'interprete? Mette al valio questa interpretazione sul testo e sul contesto, e dice Gadamer, se un pezzo di testo e di contesto urta, questo è il suo termine, termine che usa lui, urta, contro la mia interpretazione, io devo cambiare interpretazione, cambio interpretazione e la metto al valio sul testo e sul contesto, e se per caso di nuovo qualche pezzo di testo o di contesto urta contro la mia interpretazione, devo cambiare, questo è quello che si chiama il circo del menedico, Gadamer dice è un circo virtuoso, perché la seconda interpretazione si presume che sia migliore della prima, che risolva quei fatti, che spiega quei fatti, quei pezzi, questo contesto, che la prima interpretazione appunto non ha. Ora, andiamo avanti in questo modo, ora, io non lo voglio fare lungo, perché il tempo passa, ma vi chiedo, qual è la differenza che esiste tra il metodo popperiano congetture e confutazioni e questo è un metodo appunto teorizzato da Gadamer, che è il metodo che usano i filologi, Herman Frinck, Paolo Massi, i nostri Pasquari, il filologo usa questo, cioè fa le sue divinazioni se le va a controllare e il filologo è scienziato come Boncinelli, rigoroso, fa le congetture e poi le mette a prova. Pensate a tutte le interpretazioni del monumento Magirano, per esempio, no? Ecco, questo fa il filologo, e per darvi una dimostrazione chiara di questa faccenda, merita più tempo, ma insomma, noi tutti, almeno noi più anziani, abbiamo fatto tante versioni di greco e di latino. Ora, va bene, cosa capitava quando veniva il maestro, il professore in classe e non ti dava il titolo della versione? Si era angosciati. Poi se andava a San Manuel Destruisceo si diceva chissà se aziccherò la versione. e cosa capitava? Mentre tu leggevi la versione c'era o un momento di ispirazione, non so, dove metti le mani, o c'era il momento di grazia. Ho capito. Il velo che si squaccia, il lampo della notte, cosa avevi capito? Che si trattava di un viaggio in mare, la vita di un personaggio, l'Isia che fa una donazione a un abbandon tribunale, una battaglia, cosa c'era? Fatta questa concettura, cioè questa interpretazione, questa donazione di senso, che facevamo noi altri? Abbiamo fatto questo, andavamo a mettere tutti i pezzi di questo, di questa, di questa versione, di questo pezzo di linguaggio, tutti i pezzi dentro a questa concettura. E allora andavamo a guardare la quarta accezione del verbo, la quinta accezione dell'avverbio, la frase idiomatica, si lasciava un buco, un altro buco, un altro buco, se c'erano tanti buchi, diceva il compagno di banco, ma di che tratta? Cioè cercavi l'altra concettura. Guardate bene, la versione di greco e di latino, in molti licei scientifici, non in questi rifugni ovviamente, dove si, adesso lo vediamo, dove si insegna la scienza attraverso, non per problemi, ma per esercizi, è stato, se ha ragione Popper, se ha ragione Gadamer, la versione di greco e di latino, è stato l'unico lavoro scientifico anche in molti nostri licei scientifici. Allora, sono buoni, buoni, che c'è tra niente questo qui? Allora, tutto questo per dire che se noi andiamo a guardare la questione del metodo, noi ci rendiamo conto che effettivamente laddove si fa veramente scienza e si fa in storia, pensate, la traduzione, pensate, c'è un libro di George Moulin, Teorie e pratiche della traduzione, De Moulin fa vedere questo, La traduzione della Bibbia è in Inghilterra. Bene, la donna del Cantico dei Cantici è una cortigiana inglese, cioè la precomprensione ha fatto violenza al testo e poi cosa capita? Se tu guardi la traduzione via via ogni 25 anni, ecco, sapendo più di etnografia, di linguistica, eccetera, eccetera, viene fuori che c'è, come dice, la terità del testo, cioè cambia la traduzione. Quindi, noi traduciamo, traduciamo appunto le cose, ma la traduzione appunto è anche il lavoro scientifico. Allora, a questo punto, fatti questi due, non voglio annunciarvi tanto, fatti queste premesse, sarebbe altra cosa da dire, ma poi se ci sono dubbi possiamo discuterli. Vengo a una, a una questione, penso di una certa importanza, e questo perché? Perché se noi andiamo a guardare i dati dell'indagine Ox e Pisa del 2009, c'è un dato che dovrebbe farci pensare, cioè i nostri ragazzi di 15 anni, più o meno delle nostre scuole, i nostri ragazzi nei confronti di altre, di altre scuole europee, sono sotto la media europea nella comprensione di un testo. Ora guardate, quello che fa meraviglia, vedi i buoncinelli, in Germania, quando tre mesi fa sono usciti questi dati, guardate bene, in tutte le televisioni e i giornali di tutti gli enti della Germania, le televisioni nazionali, è stata una cosa, una bomba esposta in Germania a discutere queste cose, perché queste cose riguardano tutte le famiglie, tutti i giornali di un paese. E non gli altri, una piccola cosa sul Corriere della Sera, due articoletti così e nient'altro. Ora, perché io ho portato questo testo? Perché voi capite cosa significa oggi questo fatto grave? Che i nostri ragazzi, ci sono un po' delle punte, che i nostri ragazzi sono sotto la media europea nella comprensione di un testo. Ora, in questo nostro mondo, dove con tutto il bene che fa internet, ecco, ma c'è questa inondazione di informazioni, guardate bene, di informazioni che possono essere controllate da padroni, da padroni, da imbonitori, eccetera, eccetera, quindi che il ragazzo, diciamo così, non sape capire un testo, non comprenda un testo, è un fatto gravissimo appunto per la nostra democrazia. Pochi giorni fa è uscito il libro della Martha Nussbaum, non per profitto, perché le discipline umanistiche sono necessarie per la democrazia, è un testo importantissimo questo qua della Martha Nussbaum. Bene, vengo ad ultimo punto, perché dico questo? Perché appunto io credo che le nostre scuole, poi ci sono insieme e possiamo discutere, le nostre scuole, diciamo così, anche molto di più, scusate, salto tutto qua, le nostre scuole appunto devono riprendere, secondo me, oppresse dalla burocrazia, oppresse da tante cose, da poca stima per gli insegnanti, tutta questa cosa che sappiamo, ma non voglio, io credo che dobbiamo metterci in testa che l'educazione umanistica appunto delle nostre scuole e non solo delle università è un fatto di una grandissima importanza, certamente, guardate bene, la ricerca, la ricerca mirata, diciamo così, la ricerca è importante, avete ragione che il politico a dire che non si può essere ricchi e stupidi per più di una generazione, questo è vero, diciamo così, però prima della ricerca applicata ci vuole la ricerca appunto, la ricerca di base e insieme a questa la ricerca umanistica e cosa ne è dove la ricerca umanistica? Ve lo dico subito. Allora, innanzitutto, adesso qui Boncinieri dammi una mano qua tu perché per esempio se noi andiamo adesso un po' meglio ma quando abbiamo fatto noi anche noi liceo e abbiamo avuto ottimi maestri indubbiamente ma noi abbiamo avuto l'insegnamento delle scienze è stato un insegnamento non per problemi è stato un insegnamento sostanzialmente appunto per esercizi cioè tu andavi lì dovevi imparare la formula dell'esecuzione dell'esecuzione di secondo grado e fare gli esercizi imparare le teorie e fare gli esercizi in fondo io avevo scritto problemi no quindi non erano problemi erano esercizi ora certo che gli esercizi vanno fatti ma la questione è un'altra cioè se tu veramente non insegni la scienza mettendo iniezioni di storia della scienza e di epistemologia tu crei veramente delle menti lommatiche cioè quella che è l'attività più antilommatica dell'umanità cioè la scienza diciamo così la ricerca scientifica diventa il supporto del dogmatismo negli anni passati la meteorologia è scientifica e se è scientifica non si discute no de gustibus non disputandum de scienza disputandum ecco perché è importante appunto mettere ripeto queste iniezioni di storia della scienza dentro dentro appunto all'insegnamento della scienza delle scienze diceva cito solo tanto delle cose diceva bailati in un saggio interessante intitolato sull'importanza delle ricerche relativa alla storia delle scienze a nessuno che abbia avuto occasione di rattare in scuola davanti a dei giovani qualunque soggetto che si riferisca alle parti astratte teoriche della matematica può essere sfuggito il rapido cambiamento di tono che subisce l'attenzione e l'interessamento degli studenti ogni qual volta l'esposizione discostandosi per una circostanza qualsiasi dall'ordinario andamento dottrinale e deduttivo lascia luogo a delle considerazioni di indole storica a considerazioni per esempio che si riferiscono alla natura dei problemi e delle difficoltà che hanno origine allo svolgimento di una teoria o l'introduzione di un metodo a ragioni per le quali determinati concetti o determinate convenzioni sono state adottate o ai diversi punti di vista dai quali un dato soggetto fu considerato da quelli che maggiormente contribuirono ad avanzare l'attazione scientifica di questo appetito sano è caratteristico delle menti giovani per quella parte degli alimenti intellettuali loro presentati che sentivamente riconoscono come facilmente assimilabili e più confacenti al normale sviluppo della loro facoltà è certamente desiderabile trarre il maggior punt partito possibile utilizzarlo con intelligenza vuol dire rendere l'insegnamento più proficuo e nel stesso tempo più gradevole e più efficace e insieme ancora più attraente allora dicevo questo per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze però io credo che quando sono stati fatti i programmi della scuola elementare dell'85 questi programmi della scuola elementare qui sono direttrici appunto questi sono stati giudicati dall'Ocse appunto i migliori programmi della scuola elementare d'Europa e forza del mondo perché? perché erano programmi appunto che funzionavano che in cui ecco l'insegnamento era per problemi per problemi quindi è stata fatta una cosa e vado a vedere nella storia adesso lo vedremo la storia nella nostra appunto sistema formativo la storia si insegna ai problemi soltanto ancora negli elementari allora dicevo per problemi quindi cercare di far inciampare i ragazzi continuamente nei problemi ed è chiaro che nel libro di scienza c'è la teoria ma se tu metti la storia della scienza e fai capire che quella teoria è stata risposta ad un problema che un problema che era stato risolto in un altro modo c'è questa storia della scienza come diceva appunto come diceva appunto ecco Bailati e anche Enriquez primo secondo punto il problema dell'errore qui ancora Enriquez e Bailati hanno dato cose interessantissime c'è stato Perkinson che parla appunto dell'ediatica dell'errore lo sfruttamento didattico dell'errore guardate quando in una scuola rischia qualcuno fa un errore di pronuncia di grammatica di calcolo di traduzione questo è un momento privilegiato diceva Bailati nella scuola perché vediamo perché tu hai sbagliato hai infranto una regola perché hai cambiato questo allora è chiaro che questo appunto diciamo così ecco indagine sull'errore commesso sulle cause dell'errore diventa un patrimonio comune sempre diceva il Murray che nelle facoltà di medicina non si studia appunto il manuale più importante che è il manuale degli errori diceva un illustri cardiologo Boschetti il manuale degli errori per cui il medico che esce appunto che esce dalla facoltà di medicina spesso fa l'errore che hanno fatto gli altri no va bene dicevo allora questo problemi errori e allora vengo di nuovo al problema del fare versioni ora il latino non è stato quasi totalmente eliminato nelle nostre scuole il greco se non fa più poco eccetera ma guardate che l'esercizio della traduzione è veramente un esercizio che ci insegna ci insegna appunto a capire un testo il senso di un testo è preciosissimo e insieme a questo c'è la questione del fare gli assunti questa pratica che è sempre una pratica così banale che non si fa perché non è un progetto perché non è questo è una stupidaggine perché il fare gli assunti è un esercizio del medico cioè è andare a capire appunto il noccio di un discorso e questo è fondamentale e quante volte ci capita di dire ah io pensavo di averti inteso no tu mi hai frainteso e cosa del genere il fare gli assunti e confrontare gli assunti diciamo così quindi fare le versioni e fare gli assunti un'altra cosa tutti i giorni c'è stata una una disputa tra Mastro Cola e De Mauro su un punto io credo che la Mastro Cola abbia ragione cioè sul fatto che in Italia sostanzialmente in crampate sia stato eliminato il tema argomentativo è vero già come dimostrò De Santis che erano in classe da il tema non sa cosa i temi vanno preparati cioè perché perché fare un tema significa risolvere un problema allora è chiaro che i temi vanno preparati discorsi si dà l'informazione dopodiché quando l'informazione o la discorso si dà un tema che significa risolvere un problema dove si vede che un ragazzo argomenta per una tesi con due o tre tesi e si vede se il ragazzo sa argomentare guardate dentro un'università ora ci sono gente per ragazzi bravissimi ma ci sono ragazzi che non sanno più scrivere non sanno più argomentare una delle ultime tesi che ho corretto da Roma una ragazza poliglotta bravissima eccetera pensa non ci fai la punteggiatura sembra amare i netti è possibile che tu non c'hai non sanno per cosa ora il tema argomentativo è veramente è un aiuto appunto è veramente una cosa una cosa che può aiutare ecco a far come dico la logica dell'argomentazione e oltre questo adesso vengo a una cosa abbastanza interessante che riguarda qui un amico di Foligno perché dicevo la storia la storia nel nostro sistema formativo è in genere dove non è ideologico o meno ideologico è sicuramente un insegnamento mnemonico io ricordo quando insegnava Padova ma anche storia moderna è storia contemporanea cosa facevano i miei colleghi cose bellissime non so facevano sulla pesta Venezia i traffici la diplomazia veneziana della serenissima cose bellissime ma cosa facevi tu tu facevi storia moderna prendevi un volume di storia di secondo liceo classico più la monografia del professore imparavi queste cose a memoria e tu facevi l'esame di storia poi per la contemporanea un volume di terzo liceo l'ultima parte del volume e poi e poi facevi una fotografia o due fotografie del professore cioè non c'è un grammo di ricerca ora queste cose lo sapete le scuole elementali sono state corrette ma l'altro che no ora l'insegnamento della storia è una cosa veramente preziosa perché è facilmente utilizzato appunto da coloro che fanno come diceva Orwell i carinetti a servizio dei politici c'è un uso politico della storia che non è un uso scientifico dunque la cosa importante è capire appunto come funziona il linguaggio della storia bene a questo l'opposto io voglio raccontarvi spero che una storia folignate circa anni 70 un insegnante qui di Foligno di liceo stava spiegando il fascismo in quinta liceo scientifico un ragazzo disse ma professore com'è che Foligno che è stato sempre comunista era fascista prima com'è cosa sta facendo qua questo professore non disse questa domanda buttala via perché appunto dobbiamo fare il programma ma voi cosa pensate e questi ragazzi tirano fuori la loro memoria culturale erano fascisti a Foligno perché tutti i paesi erano fascisti perché gli agrari che comandava era fascista i dotti erano fascisti la gente non era fascista e cose del genere quindi c'erano un po' diciamo così di ipotesi quello che è stato trasmesso diciamo così non è in mente di questi ragazzi ora in questo caso guardate bene non è in questo caso queste ipotesi erano controllabili e perché erano controllabili perché c'era l'archivio di Cesano la casetta di Foligno l'archivio comunale c'era gente che si ricordava ancora di quello che erano stati fascisti eccetera eccetera e questi ragazzi hanno smentito le loro stesse ipotesi quello che c'erano in testa perché hanno visto che per esempio a Foligno sì c'erano dei preti fascisti ma c'erano dei preti la maggior parte del che erano era antifascista c'era il San Carlo che fu bruciato dai fascisti eccetera eccetera quindi questi ragazzi hanno visto che per esempio la po' la gente era socialista e che erano fascisti appunto coloro che erano adotti e non viceversa diciamo che chiede gente stupida po' la gente ignorante o da fascista no era l'opposto ora perché questo è importante perché guardate bene argomenti di storia locale si possono fare ovunque in Italia si possono fare ovunque non è che i manuali non devono essere fatti per i letti studiati per carità però ecco la correzione appunto con per esempio storico con queste inizioni di storia la fotografia locale può essere molto utile perché è importante quello che fece questo insegnante a Polignate è importante perché mise nella testa di questi ragazzi il benefico demone del dubbio e non si venga a dire ah questo genera scetticismo no è una cosa diversa questa qui non è scetticismo è mentalità critica perché nessuno di noi è infallibile perché questo professore insegnò a questi ragazzi a dubitare della carta stampata a dubitare di quello che dice un altro e questo è bene come diceva il vecchio popore io mi affido ma non mi fido e questo e questa idea deve valere sempre nei rapporti umani soprattutto oggi nei rapporti con i mezzi di informazione e nei rapporti appunto con la politica bene tutto questo per dire che cosa ho detto un po' Mitelli poi si arrabbia anche voi dice cosa si arrabbia allora la cosa importante è appunto la cosa importante è che da queste discipline possa venire fuori appunto una disciplina mentale un'attenzione critica ci sono altre cose che volevo dirvi ma quello che voglio dire è semplicemente questo citarvi due frasi da questo libro di Marta non sbauma appunto non per profitto perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica scrive dunque Danus Baum la spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale importanza per il futuro dei loro paesi non c'è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico-scientifica e non sarò certo io dice Danus Baum a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo la mia preoccupazione è che altre capacità altrettanto importanti stiano correndo il rischio di sparire nel vortice della concorrenza capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno per la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi del pianeta tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici dice Danus Baum la capacità di pensare criticamente la capacità di trascendere i localismi e affrontare i problemi mondiali come cittadini del mondo e infine la capacità di raffigurarsi simpaticamente alla categoria dell'altro in breve dice sempre Danus Baum le capacità intellettuali di riflessione di pensiero critico sono fondamentali per mantenere vive e ben sante le democrazie e ancora la maggior parte dei paesi moderni ansiosi di crescere economicamente hanno cominciato a pensare all'istruzione in termini rettamente strumentali come una serie di utili competenze capaci di produrre un vantaggio a breve termine per l'industria ciò che nel fenomeno competitivo è stato preso di vista è il futuro dell'autogoverno democratico come Socrate sapeva molti secoli fa la democrazia è un cavallo nobile ma indolente per tenerla sveglia occorre un pensiero agile ciò significa che i cittadini devono coltivare la capacità per la quale Socrate diede la vita dice sempre a Lusbaum quella di criticare la tradizione dell'autorità di continuare ad analizzare se stessi e gli altri non di accettare discorsi o proposti senza averli sottoposti al vaglio del proprio ragionamento di fronte al vizio atavico di idolatare il potere di fronte alla preoccupante non dirato di la grande tendenza sottometri dell'autorità e passioni sociali la democrazia dice da Lusbaum non può sopravvivere se non poniamo un limite a questi pericolosi atteggiamenti coltivando l'attitudine a pensare in modo curioso e critico fin dal tempo in cui Socrate esortava gli ateniesi a non tenere a non vivere una vita senza indagine sono soprattutto gli studi umanistici in particolare la filosofia la storia eccetera a permetterci di coltivare tali capacità e allora sta proprio prima però adesso termino prima di terminare voi mi chiedete ma chi era il professore di Foligno che faceva quelle cose belle a liceo scientifico educava i ragazzi alla critica lo sapete chi era? era Don Dante Cesarini qui davanti vicino al professore Boncinelli allora c'è meglio veramente un applauso allora sto per terminare sta proprio qui dunque la funzione sociale degli insegnamenti di natura di natura fidologica nel creare menti critiche capaci di comprendere ciò che gli altri dicono di non ingannare di non venire ingannati l'insegnamento fidologico e questo è vale soprattutto in un mondo come diceva un filosofo americano Irving Lee in un mondo dove si è dominato dalla menzogna organizzata l'insegnamento fidologico è scuola di argomentazione razionale in un mondo di messaggini di slogan di rumori di menzogne di false evidenze inventate da interessi più o meno confessabili diceva Luigi Inaudi che per deliberare occorre conoscere ma è ovvio che per conoscere bisogna discutere e la filologia in tutte le sue diramazioni è uno strumento tra i più adatti per la formazione di menti pronti ad ascoltare gli altri a correggere i propri errori a quelli altrui consapevoli della propria e della trufallibilità e con ciò menti in grado di dar vita di perfezionare e di proteggere un'autentica società democratica e in un orizzonte del genere diventano comprensibili le considerazioni che John Stuart Mill un libro molto caro per esempio anche a Giulio Giorello sviluppa nel suo grande libro della libertà specie nel capitolo della libertà di pensiero e di discussione scriveva Stuart Mill proibire di accogliere un'opinione perché la serie è brutta falsa equivale ad affermare che si ha la certezza assoluta impedire che venga discorsa è una presunzione di infallibilità ora noi vediamo soprattutto in politica ma anche altrove che questa presunzione di infallibilità è una specie di una specie appunto di epidemia eppure pensate diceva il vecchio stoico romano quando un tuo amico ha pubblica responsabilità l'unico dono che tu gli puoi fare è una critica ma voi andate a fare una critica a questi nostri politici vedete che dono che dono gli facciamo appunto allora benissimo di nuovo Stuart Emile proibire ripeto proibire di accogliere un'opinione perché la serie è brutta falsa equivale ad affermare grazie alla certezza d'assoluta impedire che venga discorsa è una presunzione di infallibilità ogni uomo sa bene che è fallibile ma pochi trovano necessario prendere le pregauzioni contro la propria fallibilità sono fallibili gli altri io non sono fallibile pochi ammettono la supposizione che la cosa sulla quale sono convinti di avere ragione possa essere uno degli esempi della fallibilità cui si riconoscono soggetti per me cito ancora la fonte di tutto quanto abiti rispettabili nell'uomo sia come essere intellettuale che come essere morale è la capacità di correggersi l'uomo e gli scrive può rettificare i suoi errori per mezzo della discussione e dell'esperienza non della sua esperienza occorre anche la discussione per mostrare come l'esperienza debba essere interpretata gli uomini in cui giudizio ispira fiducia sono uomini afferma Mill i quali prestarono attenzione ad ogni critica mossa sulle loro opinioni e sulla loro condotta si abituarono ad ascoltare pazientemente tutto quello che poteva dirsi contro di loro e approfittarne in quanto era giusto la costante abitudine di correggere e di completare le nostre opinioni ponendola a confronto di quelle degli altri lungi da generare dubbi e risolutezze è il solo fondamento stabile di una ragionevole fiducia nelle opinioni medesime non è il consenso dei cittadini anche il più massiccio il più massiccio consenso a trasformare una società in una società democratica il consenso che hanno avuto Mussolini non hanno fatto dell'Italia della Germania o della Russia sovietica stati democratici uno stato democratico è uno stato con regole che garantiscono il dissenso e permettono di rimuovere i governanti dal spargimento di sangue ma la garanzia del dissenso consegue dalla consapevolezza della nostra fallibilità una consapevolezza controistintiva che è frutto di una responsabile e mirata educazione che porti all'accettazione di quel dialogo liberale fissato nel 1951 da Bertrand Russell diceva Russell non sentirti assolutamente certo di nulla non pensare che valga la pena di procedere nascondendo la realtà dei fatti perché è sicuro che essa verrà alla luce non cercare di scoraggiare la riflessione perché è sicuro che ci riuscirai quando sei confrontato da un'opposizione anche se dovesse trattarsi di tuo marito o di tuoi figli cerca di superarla con la discussione e non con l'imposizione perché una vittoria ottenuta con la forza è fittizia e illusoria non avere alcuna venerazione per le altre autorità in quanto si possono sempre trovare altre autorità ad essa contrarie non utilizzare il potere per sopprimere opinioni che ritieni dannose perché così facendo saranno le opinioni a sopprimere te non avere paura di essere eccentrico nelle tue idee perché ogni idea da accettata è stata una volta accettata è stata una volta considerata ora accettata è stata una volta considerata eccentrica trova più gusto in un dissenso intelligente che in un consenso passivo perché se appresti l'intelligenza come dovresti nel primo caso vi è una più profonda consonanza con le tue posizioni che non è il secondo e ancora sempre l'asse si scoprosamente sincero anche se la verità è scomoda perché è ancora più scomodo tentare di nasconderla non provare invidia per la felicità di coloro che vivono di illusioni perché solo uno sciocco può pensare che in ciò consista la felicità qui finisce il decalogo di Betalasse termino con due con due pensieri uno di Einstein e uno di Popper Einstein che riassona un po' quello che abbiamo detto fino adesso diciamo nel campo di coloro che cercano la verità non esiste autorità umana e chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli dei Karl Popper il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza e ancora le istituzioni sono come le fortezze resistono se è buona la guarnigione io penso che anche attività come queste di Foligno possono servire a creare ai nostri giovani delle buone guarnigioni quindi ringraziamo chi fa queste cose applausi allora ringraziamo il professore per gli stimoli che ci ha dato e invitiamo il pubblico a fare delle domande e a porre dei dubbi e delle sollecitazioni e delle falsificazioni se ci sono se ci sono delle osservazioni dovrò fare dei corsi ma che lezioni è vostro e vostro laboratorio spreco prego professore spero di non andare fuori dal seminato a fronte a fronte di quello che ha detto ultimamente che ha riassunto sintetizzato ho fatto una sintesi voglio fare una teoria tutto ciò che si evince adesso da questo mondo dà ragione a una corrente filosofica del pensiero debole questo pensiero debole è d'accordo lei con questa definizione non non offende e sminuisce l'uomo l'uomo come non è individuo dell'avere ma persona dell'essere e della responsabilità anzi della corresponsabilità grazie possiamo mettere insieme magari altre domande prego vorrei fare questa domanda dunque basta un fatto per smentire una teoria anche se un milione di altri fatti la confermano ma quel fatto che smentisce è un sacco vuoto che contiene un'altra teoria allora si potrebbe dire che una teoria smentisce un'altra teoria signore prego c'è un altro intervento se non dopo vi mandato a casa tardi faccio volentieri volentieri fatene più semplici perché se sono semplici rispondo prego non lo so se la mia sarà semplice no mi pareva che la prospettiva che il professor Antese ha illustrato che mi sembra di interpretare di cercare una convergenza tra le varie metodiche ma comunque le due grandi tradizioni anche i due grandi versanti della scienza naturale delle scienze umane questo terreno di convergenza è nello spirito della ricerca mi sembra di capire ha citato Socrate eccetera ora lì però si pone un problema che emerge subito anche con evidenza quando c'è un riferimento forte anche alla democrazia cioè il problema è che rapporto ci può essere tra una ricerca scientifica che oggi è anche molto compromessa con la tecnica con la tecnocrazia eccetera eccetera e un'etica perché è chiaro che lo spirito della ricerca di cui il professor D'Antese riparla è una è una prospettiva che implica una presa di posizione tipo etico e quindi anche politico eccetera e questo come domanda mi permette aggiungere soltanto una cosa per la scuola io sono un insegnante sarebbe veramente bello se le scienze fossero insegnate come avventure di ricerca e che le discipline umanistiche fossero insegnate con lo spirito scientifico che dice ma perché quella benedetta quel benedetto titolo della della traduzione della versione non c'era perché non c'era perché i nostri insegnanti i nostri insegnanti del liceo di una certa tradizione che forse dura sicuramente dura ancora oggi non ce l'hanno questa chiave di lettura né da una parte né dall'altra quanto Martinus Baum ci invita a ritrovare il valore etico e politico delle scienze umane ci sta dicendo anche smettiamola di insegnare il greco il latino la filosofia che la storia in un'ottica che forse più non lo so risente molto di qualcosa di rinascimentale il vir bonus dicendi per idus e la retoria il saper parlare ma dovrebbe essere anche un saper fare saper fare la storia praticare eccetera questo secondo me sarebbe veramente una grande rivoluzione la signora non la vogliamo mandare via presto professore 35 anni fa precisi lei venne in un liceo di Spoleto dove c'era quel professore di cui abbiamo parlato a storia e filosofia a raccontarci di Popper e dell'epistemologia e di come appunto è necessario cercare di falsificare sempre le teorie e non andarci dietro quel professore in quegli anni ci insegnava a studiare storia in diversi testi De Rosa Villari e quant'altro e ci insegnava a leggere diversi giornali perché la verità sta la verità insomma è una parola grossa ma insomma in fondo al pozzo ecco io credo di averla imparata bene quella lezione non mi contento mai di teorie imprese così però voglio dire questo la vita è molto difficile per chi impara bene questa lezione è molto difficile e quindi è molto interessante la vita di chi impara bene questa lezione però è molto difficile lo voglio dire perché comunque oggi più che mai è più opportuno non porsi poi tutte queste domande non porsi tanti problemi e poi come formatrice a un osservatorio nella scuola in cui posso dire siamo lontanissimi lontanissimi dalle cose che lei ci ha detto questa sera lontanissimi per usare delle categorie di di Brunner il pensiero paradigmatico è assolutamente predominante un pensiero di tipo più ermeneutico appunto capace di assegnare riassegnare significati alle cose e quindi una modalità narrativa tutto quello che Brunner chiama narrativo la possibilità appunto anche di per esempio fare temi argomentativi invece che saggi brevi si fanno saggi brevi si fanno e devono avere tot righe mi raccomando non possono averne una più o una meno ecco si sta anche dentro le materie umanistiche abbiamo messo un pensiero di tipo paradigmatico in senso stretto fatto di numeri e griglie estremamente precise ecco io credo che sia necessario che tutto questo possa cambiare però onestamente non so proprio bene come allora domande difficili devo rispondere la prima domanda credo che sia una specie di accusa nei miei confronti perché io ho scritto un libro sulla forza del pensiero debole ora si dice ma il pensiero debole cos'è questo forse è un'abdicazione della ragione eccetera eccetera se per pensiero debole intendiamo la consapevolezza della nostra fallibilità io chiedo che questo credo sia veramente un pensiero forte ragioni logiche ragioni epistemologiche storia della scienza ci fa appunto proprio capire appunto che non è noi abbiamo fiducia nella ragione e sfiducia e sospetti nei prodotti della ragione cioè noi creiamo teorie sappiamo che siamo fallibili cerchiamo di pazificarle andiamo avanti siamo passati da Babilonesi siamo passati a Toromeo Toromeo per secoli poi siamo passati a Copernico poi da Copernico a Galileo poi a Kepler poi appunto a Newton poi ad Einstein voglio dire questo che significa che la ragione siamo sfiduciati no se viene pazificato Einstein tanto meglio se è creato di fare un'altra teoria cioè quindi fiducia nella ragione e sfiducia nei prodotti che facciamano sfiducia sospetti questi prodotti quindi questo io non credo che sia a dire l'uomo dire che siamo fallibili ma a parte la logica l'epistemologia la storia della scienza la vita quotidiana la vita quotidiana quando pensiamo che in politica ecco vediamo la faccenda della politica guardate bene non è un caso che il Popper che nel 35 ci vedo lui che nel 35 pubblica la logica la scoperta scientifica questo classico sulla teoria della fallibilità della conoscenza umana dieci anni più tardi pubblicasse appunto la società aperta ai suoi nemici l'attacco a Platone a Hegel e a Mars ma scusate voi sapete questo libro non lo pubblicava perché come si può pensare che uno che ha 40 anni che sta in Nuova Zelanda lo ha sbattuto lo ha giù insomma attacca Platone e dice che Platone è un fascista appunto che è un totalitario eccetera non lo pubblicavano e Popper cade in depressione perché il libro non glielo pubblicavano diciamo era in Nuova Zelanda e pensate scrisse questo libro nella miseria la moglie scrive a Gombrich e gli dice Carlo dice lavora giorno e notte eccetera e non gli basta lo stipendio quando Popper terminò la società aperta lui e la moglie appunto si festeggiarono questa cosa andando a mangiare un gelato questa era la cosa di questi bene ma dove sta il noccio della teoria di Popper della politica di Popper perché ce l'ha con Platone e Popper certo che Popper è cosciente ben consapevole che Platone è il più grande filosofo che l'umanità abbia avuto ma dice Popper grandi uomini possono fare grandi errori e qual è stato l'errore appunto l'errore di Platone è stato quello di pensare che qualcuno ha una verità assoluta da imporre agli altri perché Popper dice Platone ha inquinato qui su queste cose il mio amico reale è disaccordo con me ma io vi dico quello che dicevo per adesso Platone ha inquinato l'intera teoria politica dell'Occidente e perché ha fatto questo Platone come è mai successo questo questo grande uomo ha fatto questo grande errore perché Platone si è posto una domanda la domanda è questa chi deve comandare ora sembra una domanda intuitiva banale simpatica cioè chi deve comandare D'Alema Berlusconi questo o quell'altro chi deve comandare ci lo poniamo noi altri no questa domanda parlate bene è una domanda semplicemente irrazionale e perché è irrazionale perché ci manda la ricerca di ciò che non esiste perché non esiste un individuo un ceto una classe una nazione una razza che sia venuta al mondo con l'attributo della sovranità sugli altri cosa risponde Popper devono comandare i filosofi Platone chi deve comandare Platone risponde devono comandare i filosofi il re deve essere il filosofo il filosofo re perché deve comandare il filosofo perché il filosofo sa che cosa è bene e cosa è male lui lo sa e quindi sapendo cosa è bene e cosa è male si sente legittimato ecco diceva perché se no è divorato dallo zelo di imporre questa verità magari con lacrime e sangue e cosa è successo dopo Platone non i filosofi devono comandare i religiosi no un principe no un principe armato no un re per grazie di Dio e volontà della nazione no un re per volontà della nazione no poi è arrivato il secolo industriale no i positivisti poi è arrivato il secolo appena trascorso che è stato ha dato la risposta a questa domanda di Platone chi deve comandare questa razza chi deve comandare questa classe e abbiamo avuto due grandi teorie oscene teorie crudeli teorie a cui sono appesi appunto milioni e milioni di vittime nocenti farsi nazismo e comunismo chi deve comandare questa razza chi deve comandare questa classe questa appunto è una cosa che si fa capire che chi pensa di avere la verità assoluta non è un caso che a Mosca non ricordavo che stava a Mosca stava con lecchie vuote che a Mosca c'era una lapide i grandi comunisti chi è il primo grande comunista Platone durante il nazismo chi era il filosofo del nazismo e anche del fascismo in Italia Platone era Platone cioè questo appunto è stato il grande errore cioè pensare che c'è qualcuno che ha in mano la verità assoluta un cetro una razza una classe appunto un individuo città di città questa è una cosa è una cosa orrenda che ha generato queste cose quindi io non ho paura del pensiero debole se il pensiero debole significa consapevolezza della nostra fallibilità è una teoria epistemologica ma anche per chi è credente sa che siamo creature fallibili peccatrici eccetera eccetera io tra l'altro non sono un altro devoto mi devo un devoto peccatore allora vengo vengo a Don Dante perché Don Dante dice quando tu falsifici una teoria sia chiaro dal punto di vista logico sia chiaro dal punto di vista metodologico la cosa è complessissima perché la falsificazione logica questa matematica cioè la teoria T implica P non P dunque non T questa teoria si chiama modus torrens logica la teoria matematica è molto semplice definitiva diciamo così dal punto di vista metodologico la cosa è complessa perché una teoria vive sempre un'ipotesi dentro a un immenso apparato ipotetico cioè la faccia qua è il D.U.M. diciamo così però certo i fatti Don Dante guarda il fatto diceva Jevons un logico ed economista inglese è interessante dire che noi parliamo di fatto fatto è participio passato del verbo fare del verbo fare cioè viene fatto da chi? dalla teoria e qui ci sono esempi che se ne possono portare quando uno vuoi pensa a Fleck sulla Siffinite la storia dell'atomismo 1903 a Vienna il più grande fisico e filosofo dell'epoca Ernest Mach diceva che l'atomo non c'era non c'è l'atomo e quando andavano i ragazzi che avevano fatto l'esame con Boltzmann e diceva che c'erano gli atomi Mach gli rideva diceva tu l'atomo l'hai visto poi via via vengono fuori le teorie da l'atomo c'erano tutte le teorie fino a Rubbia cioè cos'è questo fatto che è l'atomo questo fatto è che il pezzo di realtà di volta in volta è raccontato da una teoria ma voglio fare una cosa più semplice prima di Galileo era un fatto che la luna è tonda perfettamente sferica sotto un po' di dunio tu vedi la luna e dici che è perfettamente sferica dopo Galileo quando puntano l'occhiare la luna non è più sferica i fatti nascono l'etere era un fatto non c'è più l'etere era un fatto poi Borginelli può stare a queste cose di storia della scienza della biologia con ricchezza che quindi i fatti siano interpretati sì però non è che sono interpretati da quella teoria sono interpretati da altre teorie quindi io faccio la teoria astronomica ma il fatto l'ho visto con quella cosa quindi non so se mi sono spiegato non c'è una circolarità diciamo così ecco forse non ti ho convinto ma comunque avremmo modo di discutere la gura speriamo per la faccenda ecco dice quindi sì Popper e Gadamer guardate bene questa faccenda di Popper e Gadamer non è che ormai diciamo così c'è tutta una letteratura enorme enorme in Germania in Francia in Inghilterra in Inghilterra c'è anche un po' in Italia adesso una letteratura enorme sul fatto che le regole del metodo problemi congetture sono le stesse in ogni angolo della ricerca anche nel metodo quotidiano sono diverse le metodiche cioè le tecniche di prova qui non ho avuto tempo di leggervi dei brani di Salvemini meravigliosi su questo punto diciamo così quindi il problema non è tanto appunto come diceva anche la signora ultima narrare ma aiutare cioè creare menti che sappiano argomentare che davanti ad una teoria sappiano inventare un'alternativa che possono farti appunto diciamo così che possono farti appunto un'obiezione perché questo vale bene ecco di nuovo prima di cercare con la democrazia ma è chiaro questo fatto qua cioè la democrazia si legge cioè una mente una mente aperta è la base più solida di una società aperta cioè una mente aperta e qual è la mente aperta? è colui che sa fantasticare cioè come dice Anus Baum che sa creare un'alternativa a quello che tu dici che ti sa criticare perché è chiaro che vedete bene se uno dice tornando prima a Platone se uno ha la verità assoluta può essere Platone Hitler Stalin eccetera eccetera o può essere un primo primo ideologo politico che gira voglio dire se uno pensa di avere la verità assoluta veramente sarà divolato dallo zelo di imporre questa verità con lacrime e sangue ma se io sono consapevole della mia fallibilità allora è chiaro che accetterò di buon grado le alternative alle mie idee e le critiche che tu mi poni e tu mi sarai grato se io appunto criticherò e ti faccio vedere che la tua teoria è sbagliata cioè cominciamo a discutere e la discussione è l'anima della democrazia ma questa discussione è possibile solo se siamo consapevoli che nessuno di noi è un Dio questa è la cosa veramente più importante che penso ci insegni la filosofia contemporanea quindi io non ho posto tu mi dici tu difendi pensiero debole sì se pensiero debole è questa cosa qui diciamo così che ho cercato di specificare vi ringrazio grazie al professore grazie al pubblico che con la sua attenzione ci ha consentito di vivere questo bel momento buonasera a tutti